Abbiamo scoperto che la diversificazione dei dinosauri, cioè il momento in cui i dinosauri diventano un gruppo dominante, è collegato all'evento climatico del carnico e avviene nel stesso momento in tutte le parti del mondo. Quindi di conseguenza i dinosauri erano già comparsi prima, circa 245 milioni di anni nel Triassico medio, ma improvvisamente diventano importanti. Stiamo parlando di 232 milioni di anni fa? Sì, stiamo parlando di 232-234 milioni di anni fa, questo è l'intervallo di tempo, quindi un periodo molto breve, in cui avvengono tantissime cose. Il cambiamento che c'è stato, che cosa ha comportato? Qua in Dolomiti, che è uno dei posti dove questo cambiamento si vede meglio, ha portato a una crisi delle scogliere cosiddette tropicali. Quello che noi vediamo è una crisi, una cengia che è un stacco importante e un cambiamento proprio di quello che c'era prima rispetto a quello che verrà dopo. Una cengia che è ben visibile tra l'altro, per esempio dove? È una cengia che è visibile, che tutti quanti quelli che girano per i Dolomiti, tutti quanti gli alpinisti la conoscono, è sotto le Tofane, è sotto le Tre Cime, in cima è la Stoiformin, è la cengia cosiddetta del Reibliano, dove c'erano quegli strati rossi molto tipici, alle basi delle grandi pareti della Dolomia principale. La vostra ricerca è partita dall'Ambra, si può dire così? È partita negli anni 90, quando un ricercatore di Cortina, Paolo Fedele, ci ha fatto vedere dell'Ambra, e abbiamo cominciato a studiarla, io e dei colleghi di Padova l'abbiamo cominciato a analizzare i dettagli, abbiamo scoperto che quest'Ambra si trovava in vari posti del mondo, sempre nello stesso momento, e questo ci ha fatto pensare. Questa è l'Ambra insieme a un'altra grande scoperta, che è quella dell'impronte. Vittorino Cazzetta, un ricercatore di Selva di Cadore, trovò alle basi del permetto dell'impronte di dinosauro, e queste impronte di dinosauro aprirono un mondo, da quel momento abbiamo trovato impronte di dinosauro dentro a Dolomia principale, in tantissimi posti, in Dolomiti, le impronte le abbiamo trovate tantissime anche sotto, ma sotto non erano dinosauriane, mentre sopra sì, e questo è quello che ci ha fatto pensare a un evento climatico. La vita vince sempre, il problema è quale tipo di vita? Allora, l'insegnamento per noi che viviamo questa epoca di cambiamento climatico è quello di non trovarci possibilmente dalla parte sbagliata? Esatto, la vita vince sempre, quello che noi vediamo è che in corrispondenza di ogni crisi, anche le più grandi, proprio penso alla crisi per motriassica, in cui almeno il 96% delle specie viventi, terra-mare, scompaiono, quindi c'è una grandissima estensione, e poi dopo c'è la radiazione, c'è gli spazi che vengono occupati da qualcos'altro, vengono sempre occupati da qualcos'altro, qualcosa che sopravvive. Non è detto che con una prossima crisi noi saremo tra quelli che passeranno oltre, però speriamo che questa crisi non ci sia. Un'ultima domanda, naturalmente anche sulla soddisfazione che avete provato nel vedere il risultato di tante fatiche, di tante ricerche, avere un eco così, forse impensata o forse invece in qualche modo prevista, perché vi rivendevate conto che stavate davvero cambiando un paradigma? Sì, noi speravamo invece che avvesse un eco così significativo, soprattutto a livello scientifico, quello che ci interessa a noi è che questo messaggio passi e che queste ricerche vadano avanti. Queste montagne hanno ancora tantissime cose da raccontarci. Sono un laboratorio a cielo aperto, vengono da tutte le parti del mondo a visitarle, perché sono uno scrigno, sono straordinariamente visibili fenomeni e i processi sono registrati in maniera assolutamente didattica. È fondamentale che questo diventi un patrimonio comune anche delle popolazioni che vivono in questo territorio.